benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti l'obiettivo è quello di andare a capire che cosa sono i design pattern e come soprattutto possiamo utilizzarli che cos'è un design pattern allora innanzitutto partiamo dalla definizione di pattern in generale in generale un pattern è una soluzione utilizzabile per un problema noto all'interno di un contesto ben definito questo ovviamente è una soluzione moda una definizione molto sintetica è una delle tante possibili capiamo quali sono i tre punti chiave che ho evidenziato qua innanzitutto dal contesto un contesto è la situazione in cui ci troviamo e che essenzialmente da origine al problema che cerchiamo di risolvere è importante andare a definire il contesto perché problemi molto simili contesti diversi possono avere soluzioni molto diverse il problema che cos'è in generale possiamo andare a pensare che un problema sia una serie di forze che agiscono e sostanzialmente sono in contrasto l'una con l'altra o con qualche esigenza e che quindi dobbiamo andare a equilibrare bilanciare in modo da ottenere una soluzione più equilibrata o migliore la soluzione è ovviamente è una descrizione di una qualche soluzione che sia stata dimostrata essere utile in più occasioni e che abbia chiaramente dei vantaggi e che sostanzialmente vada a bilanciare le forze o le problematiche che esistono all'interno del contesto descritto prima vediamo che cos'è un pattern con un esempio all'esterno del contesto software prendiamo un contesto abbastanza diverso da quello che è lo sviluppo del software immaginiamo un supermercato in cui ci sono diversi clienti che si affollano al banco della gastronomia per prendere il loro prosciutto affettato qual è il problema il problema è che i clienti possono iniziare a litigare per passare per primi tuttavia è opportuno da un punto di vista del personale mantenere l'ordine di arrivo ma allo stesso tempo è difficile andare a capire chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo una possibile soluzione è quella di andare a dare dei biglietti numerati che i clienti prendono non appena arrivano e che vengono usati per poi chiamare i clienti quando è il loro turno ecco questo potrebbe essere un pattern sociale ovvero descrive una serie di soluzioni a livello di comportamento di interazione sociale per risolvere un problema in un certo contesto qual è la storia dei pattern sostanzialmente sono stati proposti in origine da christopher alexander un architetto che ha utilizzato i pattern per andare a descrivere una serie di soluzioni tipiche ricorrenti che avevo osservato si potevano applicare ripetutamente nella progettazione di edifici lui descrive il pattern come una parola che ha un doppio significato sia il processo che ci porta alla soluzione che la soluzione stessa quando parliamo di software spesso identifichiamo diversi tipi di pattern partendo da quelli più di alto livello che vengono chiamati pattern architettonici e che sostanzialmente vanno a identificare quella che è una struttura o una soluzione a livello di sistema sottosistema scendendo a livello di design pattern quelli che sono più famosi perché sono stati primi introdotti nel contesto dello sviluppo del software che vanno a focalizzarsi su meccanismi di alto livello quindi classi interazioni tra classi o interazioni tra oggetti e infine il livello più basso che è quello degli idiomi ovvero delle soluzioni che sfruttano caratteristiche specifiche di un linguaggio per cui mentre i pattern architettonici quelli di design tendenzialmente si applicano a qualunque linguaggio tendenzialmente ad oggetti perché i pattern molto spesso sono pensati per linguaggi ad oggetti gli idiomi invece sono specifici per un dato linguaggio quando parliamo di pattern architettonici andiamo a descrivere delle soluzioni che sostanzialmente organizzano un sistema software o un sottosistema software e assegnano a una serie di componenti predefiniti quelli che sono le loro responsabilità e le modalità di interazione e definiscono delle linee guida per andare a organizzare le interazioni e le relazioni tra questi componenti. Un esempio di pattern architettonico è il seguente il contesto è quello in cui abbiamo diversi programmi che possono essere usati in sequenza leggendo uno l'input e l'output dell'altro il problema è che potenzialmente ci sono molti file intermedi che vengono utilizzati per la comunicazione tra questi programmi la soluzione è quella di utilizzare un'architettura pipe and filter in cui invece di memorizzare i file temporanei si collegano direttamente l'output di un programma con l'input dell'altro. Ecco questo è un esempio di pattern architettonico. Il livello è un livello di sistema più alto ci dà una serie di componenti e di come questi sono connessi tra di loro. I design pattern invece ci definiscono quelli che sono schemi per andare a sistemare dei componenti software tendenzialmente classi oppure oggetti a seconda che stiamo parlando di strutture a design oppure a compile time e ci descrivono quelli che sono i meccanismi e le regole di comunicazione tra questi componenti. Un esempio di pattern di design pattern è questo immaginiamo di avere una libreria di classi che offre poche limitate funzionalità ma che sono molto complesse per cui la libreria in sé contiene tantissime classi. Il problema è che gli utenti sono esposti alla complessità interna di questa libreria. La possibile soluzione è quella di utilizzare una classe detta facade, facciata, che sostanzialmente è quella deputata a interagire con gli utenti della libreria nascondendo tutti i dettagli interni. Ecco questo è un tipico design pattern, uno di quelli documentati nei libri. Infine abbiamo un livello più basso che è quello degli idiomi che sono pattern specifici per un linguaggio di programmazione e descrivono sostanzialmente come andare a implementare alcuni aspetti specifici che sono presenti magari in tanti linguaggi ma che devono essere declinati in una maniera diversa in ciascun linguaggio e sfrutta per l'appunto le caratteristiche, la sintassi o alcune caratteristiche speciali di un certo linguaggio. Un esempio di idioma è questo. Immaginiamo di avere un attributo che sostanzialmente è costante e dovrebbe essere disponibile in maniera globale, magari a tante classi, il problema è che dare un accesso aperto, cioè semplicemente rendere pubblico questo attributo, permetterebbe delle modifiche non autorizzate di un valore che in realtà dovrebbe essere costante. L'altro problema è che gli attributi tendenzialmente sono ripetuti in tutti gli oggetti, quindi la soluzione è quella di andare a dichiarare queste costanti come pubbliche sicuramente ma anche come statiche final. Statiche perché sostanzialmente evitiamo di ripetere l'attributo in ogni oggetto ma ne abbiamo un'unica copia e final perché in questo modo non è modificabile. Questo è un tipico idioma del linguaggio Java. Come possiamo descrivere un pattern? Ci sono diverse tecniche, diverse strutture per andare a descrivere un pattern. Qui vi riporto due modi alternativi di andare a descrivere un pattern. Questo di destra è di un libro della Gang of Four, di cui parleremo a breve, e questo è invece la struttura proposta da Jim Copping, un altro ricercatore attivo in questo particolare settore. In generale la struttura di sinistra prevede il nome, il problema da risolvere, la descrizione del contesto, le forze che sono sostanzialmente una specifica ulteriore di quello che è il problema, la soluzione, una spiegazione di com'è la risoluzione delle forze e la motivazione di questo tipico design. L'altra struttura di descrizione dei pattern è leggermente più sofisticata, infatti abbiamo un nome, viene spiegata un'intenzione generale del pattern e la motivazione, quindi questo in parte definisce quello che è il contesto, l'applicabilità, che è un'ulteriore specializzazione del contesto, quindi dove riusciamo a far funzionare il pattern, dove si applica la soluzione, la struttura, intesa come gli elementi fondamentali del nostro pattern, in particolare questa poi viene specializzata ulteriormente in termini di partecipanti, collaborazioni e conseguenze. C'è una parte importante relativa all'implementazione perché è orientata alla scrittura di codice e infine gli altri pattern correlati. Quest'ultimo elemento è importante perché spesso i pattern vengono messi assieme in quello che si definisce un linguaggio di pattern. Infatti è possibile che vengano applicati assieme, oppure che un pattern venga utilizzato per implementarne un altro, oppure è possibile che la soluzione portata da un pattern introduca un nuovo problema che deve essere risolto usando un ulteriore pattern. Per cui tutto questo forma quello che si chiama un linguaggio di pattern o sistema di pattern. In generale quando abbiamo un linguaggio di pattern andiamo a presentare tutti i pattern assieme in maniera consistente, dando delle linee guida per quella che è l'implementazione, come possiamo combinarli e quelli che sono gli usi pratici. In generale si definisce un pattern language, un insieme di pattern che abbia un numero sufficiente di pattern, abbia per l'appunto una descrizione uniforme e li presenti in relazione l'uno all'altro. Vediamo quello che è il principale libro, il primo libro che è stato scritto relativamente ai design pattern per quanto riguarda lo sviluppo del software. Il titolo del libro è Design Patterns, Elements of a Usable Object Oriented Software, ed è stato scritto da questi quattro autori che sono noti come la Gang of Four, infatti questo libro è noto come il Gang of Four Book. Descrive sostanzialmente la struttura dei pattern utilizzando la suddivisione che abbiamo visto prima e in pratica è il libro di riferimento quando parliamo di design pattern. Ovviamente ce ne sono stati tanti altri, ma questo è il primo che propone una classificazione di design pattern, li descrive in maniera uniforme e quindi è il riferimento. Questo libro descrive sostanzialmente tre principali categorie di pattern, quelli creazionali utilizzati per andare a costruire degli oggetti o insiemi di oggetti, quelli strutturali che permettono di andare a definire una particolare struttura di oggetti molto articolata e quelli comportamentali che vanno a definire delle strutture particolari che servono per fornire dei comportamenti piuttosto articolati. I design pattern, per come sono descritti in questo libro, vanno a fornire quella che è una specializzazione di alcune soluzioni andando a definire la soluzione in termini di oggetti, classi e quelle che sono le comunicazioni tra i vari oggetti. Nel libro della Gang of Four la classificazione, come dicevo, segue due principali filoni. Uno è quello che menzionavo prima, relativo allo scopo del pattern specifico, quindi creazionale, strutturale o comportamentale. La seconda dimensione di classificazione è quella del contesto in cui viene applicato il pattern, che può essere a livello di classe o a livello di oggetti. Giusto per darvi una dimensione quantitativa, i pattern creazionali sono 5, di cui uno relativo alle classi e uno relativo agli oggetti, quelli strutturali sono 7, di cui 6 relativi agli oggetti e uno specifico per le classi e i pattern comportamentali sono 12, di cui 10, che definiscono strutture di oggetti e 2, che definiscono strutture di classi. Come andiamo a utilizzare questi pattern? Sostanzialmente l'idea è che dobbiamo, andando a usare un catalogo come quello fornito dal libro della Gang of Four, capire quali sono i pattern che possono risolvere i problemi che abbiamo a disposizione e che dobbiamo risolvere. In particolare possiamo andare a scorrere quelle che sono le sezioni degli intenti, dei diversi pattern, capire come sono ancora legati tra di loro, capire i pattern che possono ragionevolmente avere un'applicazione nel nostro contesto e capire i loro obiettivi e poi andare a capire come possiamo andare a modificare della nostra struttura usando la soluzione proposta di pattern e andare a capire quali sono le corrispondenze tra gli aspetti, i ruoli principali, gli elementi fondamentali del pattern e invece gli elementi che sono presenti nel nostro programma. Quindi quando dobbiamo a che fare con pattern è importante leggerlo tutto, capire come funziona e dopo che abbiamo un'idea generale del funzionamento andare a studiare bene la struttura generale, quali sono i partecipanti, quindi diversi ruoli e come questi collaborano tra di loro. È molto utile soprattutto andare a vedere il codice di esempio. Nel libro della Gang of Four, visto che il linguaggio più comune all'epoca era C++, questo è il modo in cui sono stati presentati gli esempi di codice. Una volta che abbiamo capito questo, possiamo andare a scegliere dei nomi significativi per i partecipanti mettendoli in relazione tra i nomi generali utilizzati nella descrizione del pattern e quelli che sono significativi nel nostro dominio, definendo alcune classi opportune e scegliendo i nomi delle operazioni. Di nuovo, usando i nomi dei metodi che abbiamo noi nel nostro dominio, cercando di metterli in correlazione con quelli che sono i nomi definiti nella struttura del pattern in modo che sia evidente come il pattern è stato realizzato all'interno del nostro codice. E infine andare a scrivere il codice che implementa le operazioni. Quindi questa è la procedura per andare a utilizzare dei pattern. Se vogliamo approfondire, possiamo andare a prendere il libro della Gang of Four o comunque tanti altri libri che sono a disposizione che descrivono i pattern e che vi descrivo nella bibliografia in fondo a questo insieme di slide. Quindi abbiamo il libro Gang of Four che è il primo e c'è quest'altro Head First Design Patterns che è un libro un po' più recente con esempi scritti in Java che possono essere utili come guida per andare ad applicare i pattern in contesti pratici. Quello che faremo durante il corso è, man mano che ci capitano strutture di codice o in particolare elementi della sintassi o del linguaggio che ci permettono di andare a implementare i pattern sarà presentare il pattern facendo un breve cenno. Non andremo a vedere nel dettaglio tutte le descrizioni dei pattern che sicuramente potete invece andare a leggere voi nel dettaglio andando a consultare questi volumi. Grazie.